Dopo l'arresto avvenuto lo scorso mese di dicembre da parte della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, dell'esecutore materiale del tentato omicidio di Gioele Carmelo Mangiola, il 39enne ferito al volto con colpi di pistola lo scorso 13 ottobre, mentre si trovava a bordo della sua auto nei pressi di una scuola primaria in via Abate Sant'Elia, nella periferia sud di Reggio Calabria, ora si è costituito anche il secondo presunto fiancheggiatore. Si tratta di Paolo Paleologo, 45 anni, che secondo gli inquirenti avrebbe avuto compiti di supporto all'azione di Emilio Minniti, l'uomo che ha sparato i quattro colpi di pistola contro Mangiola, due dei quali andati a segno. Durante la sua testimonianza, la vittima, che ha potuto vedere il volto dei propri aggressori e che descrive i due indegati come gli autori del suo tentato omicidio, offrendo anche una possibile indicazione del movente collegato al suo rifiuto di entrare a far parte di un gruppo mafioso, avrebbe raccontato che proprio Paleologo avrebbe incitato Minniti urlando «spara, spara!». Nelle prossime ore l'arrestato sarà sottoposto a un interrogatorio di garanzia.